Non il vostro, ma lo schermo che abbiamo qui, Matteo Iarena, il pilota del Costa Rica, che vi dicevo aveva dei problemi a sfruttare interamente il potenziale della Lamborghini in frenata. La Lamborghini è una macchina molto nervosa, è una macchina che va fatta girare prima dell'ingresso di curva per poter uscire con le ruote dritte per essere veloce. Proprio Ferdinando Nonfartini si è accorto di questo problema che aveva Matteo, che non era abituato ad avere un retrotreno della vettura così nervoso, gli ha spiegato bene come stanno le cose, proprio questa mattina quando siamo arrivati in autodromo ci spiegava che Matteo è in fase di evoluzione, di evoluzione positiva per quanto riguarda la guida della seconda Huracan del team imperiale con Ferrari e Di Amato che sono sempre davanti a tutti quanti con Di Folco che ha perso qualche cosina ma il pilota naziale dell'imperiale ha perso anche a causa dei doppiaggi. Poi abbiamo Tempesta, Iarena e Zucche che stanno lottando per il quarto posto. qui ancora una volta Lorenzo Ferrari.